dove la passione incontra la strada per vedere e provare tutte le novità a Verona dal 15 al 17 settembre settantesima esposizione internazionale del ciclo il salotto di bike show diventa tv in onda adesso su sky bike show tv è anche online sul sito www.bikeshowtv.com anche su htb 8 13 est frequenza 12 149 bike show tv adesso è talk show a Grazie a tutti 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 Piero Appena appena sete Appena appena sete Siccome come sai con questi signori Noi abbiamo già fatto qualcosa E tu mi sa che ti sei Come dire Con quale lavorare? Ah già è vero Scusami scusami che ha fatto una gaffa incredibile Già Cipollini mi ha detto Niente io credo che C'è anche una giornata bellissima e quindi Sta venendo fuori un successo incredibile Ben oltre la detta degli stessi operatori di settore Ben oltre le aspettative Bene io adesso Pietro Allora Cipollini vuole portarmi via Iman sulla tuba da bicicletta? Io ho già fatto un giro con lui ed è una macchina in movimento nel senso che dove si muove la gente si gira a guardarlo e lui si ferma anche a farsi ammirare è sempre stato l'idolo di molti e penso che meriti tutto quello che ha adesso per quello che ha fatto in passato Bene allora buona pedalata Adesso vado da Mario C'è Paola che vi aspetta lì pronta Agguerrita Però potevano prendere la mountain bike Un giro in bici da corsa e una mountain bike Giusto un giro con la bici da corsa e un giro in mountain bike Facciamo due giri Stacca Cipollini Sarà dura ci allena tutti i giorni Attaccano in salita che lì Più allenato di prima mi sta Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes Bike Show TV adesso è Talk Show Il salotto di Bike Show diventa TV In onda adesso su Sky Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com Anche su HTB 8 13esimo Est Frequenza 12149 Dove la passione incontra la strada Per vedere e provare tutte le novità A Verona dal 15 al 17 settembre Settantesima esposizione internazionale del ciclo Si apre un nuovo ciclo A Verona il più esclusivo appuntamento dedicato alla bicicletta